o buonasera a tutti ragazzi benvenuti oggi siamo a fare le white list in live vediamo un po chi spostare oggi siamo parassoli quindi come di guardarmi poi fare le volte questo è un po da solo fare bene allora iniziamo a spostare alberto vediamo che è già tutto dimandato ok no ok sono ok ho attivato la sento il rumore su fondo non lo parlo comunque buonasera sicura buonasera buonasera tutto bene bene ok allora vediamo qua sto alberto mandato no alberto di media da 18 anni qua va bene spostiamo lui e vediamo un po che ci dice ultimo solo che devo fare una cosa veloce grazie ok ok perfetto e vediamo dai intanto spostiamoci Alberto buonasera Alberto mi senti? buonasera mi senti? sì buonasera sono in live è un problema per te farla guai che stai bene? no 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 assolutamente no benissimo allora iniziamo subito con una domanda abbastanza assoluta che faccio quindi se mi puoi parlare del tuo background sì sì perfetto prego allora come già ho detto il mio background si chiama Alberto aspetta scusami un attimo sì scusami allora il mio background come già ho detto si chiama Alberto Esposito ha 22 anni nasce in un quartiere della periferia di Napoli Scampia come già ho detto lui si ritrova a lavorare sin dall'età di 10 anni per via delle difficoltà economiche che ha con la famiglia e poi lavora col padre come venditura ambulante poi verso l'età di 15 anni inizia a conoscere un gruppo di ragazzi del quartiere che gli offrono di lavorare con la famiglia principale diciamo di Scampia come vedetta lui accetta perché comunque è un come posso dire è un boon si guadagna bene per quell'età che ha e può togliersi e si ha qualche istituzione personale come sempre può usare dei vestiti di marca cosa che lui non sa neanche che significa e anche aiutare ancora di più la famiglia poi la sua vita cambia proprio totalmente quando nell'età di 20 anni gli uccidono il padre per uno scambio di persona ok viene scambiato per un membro di un clan invece il padre è un semplice venditura ambulante e per questo lui diciamo voleva vendicarsi però allo stesso tempo diventa molto fragile perché lui ha un rapporto molto speciale col padre proprio per questo diciamo con questo rapporto speciale che aveva col padre lui prova ad appellarsi a questi membri di questo clan con cui lavorava però essendo che non era un membro vero e proprio non un funzionario ma era una semplice vedetta i membri del clan non gli danno a scurto diciamo perché si scatennava una guerra inutile con una famiglia per una sciocchezza perché comunque Alberto non era un vero e proprio membro era una semplice vedetta e per questo poi arriviamo all'età di 22 anni con un Alberto totalmente cambiato rispetto da bambino che è ormai una persona irrascibile non si prende conseguenze della vita non si fida più di nessuna a differenza di quando era bambino va bene andiamo avanti andiamo avanti che tipo di rp vuoi fare nel server? no voglio essere diciamo vorrei lavorare fare una vita abbastanza tranquilla quindi che tipo di rp vuoi fare? in che senso? che tipo di rp vuoi fare? legale illegale questo voglio dire legale legale ok bene allora parliamo delle regole basi intanto definizione di metagame metagame è quando tipo io scopro il punto tipo della marijuana vedendo magari non lo so la live di qualcuno e non scoprendo le inguini definizione un esempio ho chiesto la definizione è quando diciamo prendiamo il tipo un punto della mappa non scoprendolo in game no ripeti di nuovo da capo praticamente il metagame è quando scopriamo un punto della mappa in particolare non scoprendolo in game ma magari tipo vedendo la chat qualcosa del genere no fammi dirgli esempi no non è questo la definizione di game tipo l'esempio la definizione di metagame è scoprire informazioni ed utilizzare informazioni inerenti all'rp in oc e quindi anche tipo anche l'esempio giusto quello là l'esempio della marijuana l'avevo fatto bene si però l'altro ho chiesto la definizione che non mi è saputa dire hai ragione hai ragione definizione di rdm e vdm rdm è quando uccido ad esempio un player senza motivo vdm è quando investo un player senza motivo ok definizione di power game power game è quando abusiamo delle delle meccaniche del gioco quindi ad esempio una macchina non è completa la definizione è quando abusiamo delle meccaniche del gioco per per qualche scopa ad esempio una macchina sopra una macchina sportiva su una collina sto confondendo hai iniziato bene la definizione forse sto sto confondendo quando tipo abusiamo delle meccaniche posso dire abusiamo delle meccaniche del gioco per come l'ansia no allora la definizione di power game è compiere azioni come tu no ripeti un attimo cosa ho detto tu che ripeto le tue parole abusare meccaniche del gioco si però compiere azioni irrealistiche o surreali abusando appunto di meccaniche di gioco che ti permettono di farlo per esempio appunto come stai dicendo tu salire sulla montagna con una macchina si tu puoi farlo perché le meccaniche di gioco ti permettono di salire con una ferrari sulla montagna però a livello reale non potresti farlo ok questa definizione di power game questo è un tentativo però le definizioni chiedo scusa è un po' di difficoltà nel dire le definizioni vedo si chiedo scusa poi bene andiamo avanti definizione di no fear no fear è quando tipo mi intimidisco non mi faccio intimidire praticamente tipo una tipo fingo non ho paura buongiorno a tutti buongiorno Alberto buongiorno dai buongiorno buongiorno che troll che sei buonasera buonasera vabbè li continua subito continua stavi dicendo Alberto allora non fear è quando mi tipo non ho paura tipo ad esempio mi puntano una pistola in testa e non c'ho paura praticamente questo è un esempio io ho chiesto la definizione Alberto è difficoltà nel dare le definizioni ripeto vabbè facciamo che non te le chiedi non te le chiedo vabbè vediamo un po' l'esempio l'hai detto l'esempio è quando non si muovi la paura giusto mi faccio una domanda tu Tommy guarda non so dove siete arrivati ho chiesto le definizioni basi del roleplay mi sai dire quali sono le fazioni neutrali del server i medici poi la polizia no polizia è tutt'altro che neutrale i medici tipo ma hai giudati i medici eh caro cosa hai detto ho detto caro forza Alberto oltre i medici ah cos'è una fazione neutrale la fazione neutrale è che in poche parole è neutrale non possiamo colpirla ad esempio non possiamo né rapinarla né né diciamo loro neutrali cos'è che non possono fare non possono ucciderci non possono quindi non possono fare azioni illegali ok quindi che altre fazioni oltre ai medici che hai detto eh no oltre ai medici che hai già detto ok esatto quale altre fazioni quindi ce ne sono tre quale altre fazioni sono neutrali cioè che quando sono in servizio devono sempre cioè devono prestare servizio devono vendere devono fare le loro cose non ti voglio dire troppo i medici già l'ho detto qualche altra attività che c'è in città cosa i pompiri ma che siamo sulla serie tv 9 non ti dico la vita sono anche un po' un po' di altri il concessionario il concessionario e poi la l'ar l'armeria l'armeria ok mamma mia un travaglio comunque scusa vabbè andiamo avanti andiamo avanti caro facciamo parlavamo appunto di polizia no parlavamo appunto di fazioni neutrali ora parliamo delle zone safe invece che sono simili ma in base alle zone non sono persone le zone safe quali sono? cosa sono innanzitutto e quali sono? le zone safe sono delle zone in cui non non si può né sparare né diciamo far casino in poche parole c'è anche la la stazione di polizia no non è completamente safe quella è semi safe e poi ci arriviamo parlo di safe quali ci sono? ospedale 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 l'armeria ospedale l'armeria concessionario concessionario vuoi rincari tutti? diciamo che generalizziamo che cosa sono? che cosa sono? quali sono le zone safe? sono quelle zone in cui come già ti ho detto non si può né sparare né diciamo far casino sono safe per questo ok ma quali sono? sono il concessionario l'ospedale l'armeria sì poi oltre cos'altro poi cos'altro? tutti i negozi vestiti tutti i negozi tatuaggi i barbieri questi ma non l'hai detto però non l'hai detto però è ragione è ragione solo non so non so che mi prende di cuore beh comunque ti mutiamo un secondino ok esatto vabbè io penso che non basta io nel senso gli ho fatto due domande quando sono entrato sì sì niente di domanda risposto non ti preoccupare ok scrivilo pure tu scrivilo pure tu esatto un bel 72 ore va bene ciao Alberto allora sai benissimo anche te che comunque non è andata benissimo sì quindi ti rimandiamo di 72 ore perché devi leggerti meglio il regolamento quindi quando posso posso venire di nuovo per tornare martedì va bene ok va bene Alberto dai ciao ciao bene facciamo quel prossimo darkness vediamo qua darkness se è mai stato dimandato ok hai fatto dimandato devi compilare background mi hai dato per momentaneamente dono per fare esperienze dp ed era il 10 del 7 del 2022 quindi minorità di 13 giorni io direi che devi fare ancora esperienze rp non è che può scusa oh mi vabbè direi che deve fare un'altra esperienza rp scusami se 10 ti stai guardando eh chi è darkness sto rimandato per un po' che esperienze rp il 13 giorni fa sì quindi direi che non ha abbastanza esperienze rp ancora quindi direi che fa che ha modificato spostiamo un attimo era giù uno ciao darkness buonasera ciao buonasera ciao darkness quanti anni hai? ho 23 anni ok darkness senti una cosa ci sta un problema tu sei rimandato per mancanza di perché non avevi abbastanza esperienze rp giusto? sì ecco come mai hai scritto tre mesi a luglio e oggi è cambiato hai fatto un anno di esperienze rp cioè 13 giorni sono passati 8 mesi? no guarda c'è anche l'altra volta di Steam non ricordo se parlo con te oppure con un altro perché c'avevo un altro account di Steam che avevo che avevo che poi ho perso però quello che volevo dire è che ho giocato ultimamente più tempo quindi ho fatto qualche oretta in più anche nel vostro server in vero no white list e come ho detto prima l'altro ragazzo l'unica cosa che vorrei dato che ora ho le vacanze perché io lavoro quindi è un po' difficile fare quelle ore che mi dici però ho un paio di settimane di festa e vorrei giocare in un server più serio e più adeguato capito? più tranquillo per questo ho fatto di nuovo la domanda l'altra volta eh ma tu non puoi eh ma se tu hai tre mesi di esperienze rp non puoi venire a smettere un anno capito il discorso cioè tu non puoi cambiare così da un'unica all'altra l'esperienza rp rimane sempre tale? ah eh cioè tu hai capito cioè l'esperienza rp hai tre mesi ce n'hai tu no? quando inizia da fare rp tu? ah è di esperienze rp vi ho detto ho giocato però non hai giocato tanto quindi devi fare esperienze rp devi fare più esperienze rp ok? se vuoi puoi giocare su impero no whitelist qual era il mio scopo ma purtroppo non posso farci nulla ok? se vuoi puoi giocare su impero no whitelist qui puoi giocare anche senza esperienze rp e e lì puoi giocare con zero esperienza anche con poca esperienza lì ma voi quante ore mi disse è un bel po' diciamo un po' di mesi diciamo non tre mesi però un po' di più ci vogliono metà anno un anno in circa intanto puoi giocare su impero no whitelist dove puoi fare esperienze rp e poi dopo puoi venire qua sapete che cos'è che su impero no whitelist vi ripeto quella volta che ci gioco era per giocare seriamente senza problemi ci sono troppi ragazzini piccoli che danno fastidio e non ti lasciano giocare in pace non posso farci nulla purtroppo io purtroppo da regolamento dello staff e devo rimandarti Darkness non posso pagare con lo staff eh potrei pagare con lo staff se è possibile parlare con lo staff sì io sono con lo staff ah no pensavo che c'è un superiore ho scritto pure 2000 caratteri qua mi hanno detto di scrivere 2000 caratteri non cambia nulla superiore o meno tu devi per forza fare esperienze rp mi dispiace vabbè perfetto ciao ciao mi chiamo un attimo ragazzi mi muto una seconda grazie bene rieccomi allora continuiamo c'è questo qua con un caratteristrani mi preoccupa alquanto vediamo se è mai stato rimandato non è mai stato rimandato vediamo se è mandato tutto background su un documento google sarei spostato già qualcun altro e va bene pomodorino vediamo per cosa è stato rimandato oh grazie per il follow sono ghosti benvenuto sono ghosti non posso givare mi dispiace pomodorino buonasera pomodorino mi senti si ti sento buonasera buonasera sono in live è un problema per te no non è un problema ok come come va tutto bene si bene tu tutto bene grazie allora è vero che siete rimandati 24 ore per per il regolamento giusto si si prima per quello criminale dopo un po' per quello generale benissimo allora facciamo un po' di domande io farò tutte le domande farò un po' di domande un po' su tutto quindi non una seconda di cosa sarebbe andato ma di nuovo tutto il regolamento ti chiedo ok va bene va bene iniziamo mi parli un po' del tuo background cosa vuoi farne repi proprio in un minuto costretto il mio background parla del mio PG che si chiama Travis è nato a Cosenza ha avuto un'infanzia ha avuto una famiglia benestante un'infanzia dove la scuola andava sempre bene ed era appassionato di calcio tanto che va a vedere la finale dei mondiali del 2006 allo stadio olimpico di Berlino insieme al padre soltanto che dopo aver finito la scuola iniziano i primi litigi con la famiglia e decide di trasferirsi in una nuova città che è quella di Los Santos e da lì per la compagnia che frequenta inizia una vita criminale partendo da gang che era quella dei blu e arriva fino ad un clan tuttora e vuole venire in questa città vuole partire legalmente per poi vedere dalla compagnia che si circonda l'ho detto tutto ok che tipo di rp vuoi fare se impero allora vorrei fare inizialmente un rp legale e poi dalla compagnia con cui mi circondo vedo se continuare così oppure passerà la vita illegale quindi tu vuoi prima iniziare la parte legale e poi magari continuare nel lì ok iniziamolo con qualche domanda dei pensioni di rdm e vdm allora rdm è sparare qualcuno senza una valida una motivazione uccidere mentre vdm è investire qualcuno senza un valido motivo ok definizione di power game e power game è abusare di meccaniche di gioco per compiere determinate azioni ok che nella vita reale sarebbero forzate va bene definizione di no fear non simulare la paura in momento di pericolo ok car jack car jack mi pare quando un veicolo è in movimento non tutti sono seduti sugli appositi sedili no no sostare no sostare col veicolo sopra una persona no car jack è rubare un veicolo senza un motivo ok andiamo avanti definizione di metagame e c eh no mi fai un esempio di metagame c per fuori una definizione una definizione di metagame c no no un esempio un esempio di metagame c moscere una persona mascherata attraverso la voce il veicolo oppure l'abbigliamento ok e le fazioni neutrali di impero quali sono? le fazioni neutrali sono tre ovvero l'ospedale i concessionari e l'armeria ok salve 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 Dani sta un attimo e devi mutare pure eh è importante è una cosa molto per me devi dirmi ok muto un attimo si ti posso vuole due un attimo di di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tatuaggi e maschere. Grazie per il follow. White Rino, che sarebbe quello staff che era con me prima in canale. Ok. E cosa significa safe zone? Come? Che significa safe zone? Safe zone sono le zone safe dove non si può estrarre nemmeno l'arma, oppure rapire o fare azioni criminali. Ok. Grazie per il follow, NJTroCrash. Grazie per il follow, benvenuto. Ok. E cos'è il permadet? Il permadet è quando il tuo personaggio muore definitivamente e in seguito a questa morte si può fare il wipe e per 15 giorni non puoi fare nessuna azione criminale. Ti parlo un po' del permadet? No, no, vabbè. Ok. Se una persona muore e vai in ospedale, dopo quanto tempo si può ricordare l'azione? Se viene rianimato da un medico? Sì. Dopo un'ora. Dopo un'ora però ovviamente... No, non potrai ricordare l'azione se la persona respawno in ospedale. Se respawno e resti in ospedale no. Se viene rianimato da un medico... Infatti se una persona va in ospedale, appena ho detto io. Ah, ok, no, allora non può ricordarsi l'azione. E se invece viene rianimato da un medico? Da un medico dopo un'ora. Esatto, quella è giusta. Un medico può compiere azioni illegali? Un medico può compiere azioni illegali quando è fuori servizio. Ok, possono ottenere un'arma a loro? Durante il servizio solo il taser. Ok. Però stavi dicendo? Però se il medico fuori dal servizio viene scoperto a compiere azioni illegali, varia dal direttore se mantenerlo oppure no. Come medico. Ok. Si possono rapinare i lavori white di stati? No, non si possono rapinare. Non white di stati? I lavori nuove no, in nessun momento. Ok, perfetto. Un direttore di locale può compiere azioni illegali? Penso di no. No, non le può compiere. Eh, vada, sì, vale come il medico. Fuori servizio può compiere, però sull'esco pericolo diventa alta l'azienda, l'azienda della compagnia, se viene beccato. Va bene. E un dipendente invece? Un dipendente sempre fuori dal servizio può compiere azioni illegali. Ok. Quanti membri possono partecipare in un'azione illegale? Allora, varia a seconda delle azioni illegali. Giusto, ok. In una filum? 10 criminali, 14 poliziotti. 10 criminali, 14 poliziotti. Ok. Ehm... In un negozietto? In un negozietto due contro due poliziotti e due criminali. Si possono usare i caschi in azioni free room? In azioni free room no, nessun casco e si usano solo le pistole. E si possono usare le automatiche in azioni free room? No. Ok. Ehm... Come funziona l'assalto alla centrale? E alla centrale di polizia? Sì. Allora, per fare un assalto alla centrale di polizia bisogna avere valide motivazioni RP e può essere assaltata da 12 criminali, se non mi sbaglio. Ok. E il numero di poliziotti può essere illimitato, però devono essere in città in quel momento. Se un poliziotto entra in città durante l'azione deve alzare le mani e allontanarsi dalla zona senza dare fastidio né ai criminali né ai suoi colleghi. E questa appunto è la regola nuova, no? Giusto? Come? È un regolamento nuovo questo, giusto? Sì, sì. Ok. Mi fai degli esempi di Power Game, eh? Qualsiasi esempio? Sì. Allora, Power Game, ad esempio correre scalzi su una montagna, mentre si nuota parlare con la radio per usare i telefoni, salire le scale, cioè intendo non quella a chioccio, è salire delle scale mentre si mangia o si beve. Andare con, ad esempio, ad esempio andare con una Ferrari su una montagna, con veicoli sportivi. Ne vuoi ancora qualcun altro? Che sono le zone arancioni? Le zone arancioni sono delle zone specifiche che il cartello assegna alle mafie e lì possono, come si dice, lì raccolgono per le zone rosse, gli raccolgono gli additivi per le zone rosse. Ripeti un attimo. Allora, le zone arancioni sono zone che personalmente il cartello assegna alle mafie e quelle zone arancioni devono essere difese, devono essere sempre sorvegliate e difese da questi criminali. Ah, ok, sì, sì, a posto, sì, sì. Bene, come sembra essere nata in Whitelistown? Come? Come pensi di essere nata in Whitelistown? Benino? No, ti muovi anche che c'è un'altra domanda. Va bene. Gli assalto al convoglio o come funziona? Allora, gli assalto al convoglio funziona dopo quando dei criminali devono essere portati o in centrale di polizia oppure direttamente al carcere. Viene considerata come un'azione freerum. Freerum possono partecipare dieci criminali, si usano solo le pistole, può avere una sola volta. No, allora, l'azione freerum cambia a seconda dell'azione cambia, se adesso la freerum c'è un tipo, Blaine uno, Pacifico un altro. Sì, in questa, in base al convoglio. Possono partecipare massimo dieci criminali, gli agenti sono quattordici e l'assalto al convoglio può avvenire soltanto, ci può essere soltanto un tentativo e i criminali che sono già arrestati possono partecipare, cioè partecipano sì, però non possono fare niente finché una delle due fazioni non vince. Se i poliziotti perdono, lì possono iniziare a scappare, eccetera, se no durante l'azione... Quanti criminali possono partecipare all'assalto all'azione freerum? Come? Quanti criminali possono partecipare ad un assalto di un'azione freerum? A un assalto di azione freerum in questo caso dieci? No, sette. Ah, sette, ok. Come pensi di essere andato quindi? Bene, dici. Come? Come pensi di essere andato quindi, bene? Un venino, non lo so. Quanti errori hai fatto? In GTRP più di cento. No, guarda, quanti errori hai fatto? Non ti ho descritto bene, non ti ho parlato bene di quest'ultima domanda, quella riguarda il carjack, tre, quattro errori. Sei un po' sul limite, sai? Ah. Nel tuo profilo non riesco a vedere il tuo profilo di Steam, io. Vuoi che ti mando il link per casa? No, scusate, sì, manda il mio link per il tuo profilo perché non lo vedo. Andiamo un attimino. Allora, ok, tasto di web. Lull. Mandato. Allora. No, no, non mi stai mandando il tuo profilo, vabbè. Vediamo un attimo se riesco a copiarlo a vedere. No, l'ultima volta quando ho fatto... No, non mi ha mandato il tuo Steam. Allora non so come si fa, l'ultima volta ho avuto pure questo problemino, a Rino gli ho fatto la condivisione. Ok, ora è a posto. Francesco Balatzky si chiama su Steam? Sì, sì, sono io. Ok. Beh, allora... Sì, hai passato l'Ale White, l'islam devo dire. Ok. Sì, sì. L'hai passata. Ora facciamo un controllo. Hai risposto bene alle domande, diciamo. Ok. Ok. Discord D. Perfetto. Getto i ruoli. A posto. Bene, allora buona fortuna. Buon games impero. Ci vediamo. Ciao, ciao. 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 Who is the snow? Who is the snow? Ciao. Tutto bene, tu? Bene. Andiamo con Malala. Hai mai stato dimandato? No. Anche lui è next Google qua. Ok, carate, ci stanno. Sedici anni. Vai qui a tre mesi, un po' poco. Spostiamolo. Ciao. Ciao. Ciao, quanti li hai? Sedici. Sedici anni? No. Sei sicuro? Sì, però. Ok, quanto tempo giochi su RP? Oh, mi senti? Butto un attimo, ragazzi, l'audio, perché ho paura che questo mi ci ricordo di bannabile. Ok. Senti, quanto tempo giochi su DRP? Un po' pochino, lo sai? Un po' poco, sai? Devi ancora giocare almeno metà anno. Ma io sono bravissimo a giocare, però. Eh, lo so. Però, purtroppo... Senti, poi puoi tornare, ok? Intanto voglio giocare su Noelle. Io ho un piccolo. Eh, ma Noelle non mi fa entrare, non so perché. Eh, strano. Per diventare sul Discord, sei andato? Sì. Nel disco metti le razioni. Non ho detto... Non lo so. Cioè, mi hanno detto niente, che non so può fare niente, che non so. Eh, però la distenza sul Noelle è fatta spiegare lì ancora. Sì, un fra, perché io lo gioco a un server well. Eh, però questo qui devi aspettare ancora un po', ok? Ma io ho acquistato il PC a aprile. Cioè, di no. Eh, sì, lo so, ma le giochi su DRP da tre mesi è ancora poco, sai? Eh, quattro. Maggio, hai detto. Maggio, giugno e luglio. Sono due mesi, scusami. Due mesi? Esatto. Maggio, hai detto che quei giochi... Tu hai detto il gioco è da maggio. Hai detto maggio, giugno, sono un mese. Eh, scusa, sbagliato, perché... Vabbè, da aprile, maggio, aprile, maggio, maggio, giugno, giugno, luglio. Sono sempre tre mesi, quindi ancora poco. Devi fare almeno un metà anno, ok? Perché io sull'account c'ho 120 ore. Eh, devi fare un po' di mesi l'esperienza, ok? E quante ore? Metà anno. Eh? Metà anno, in circa, un po' qualche mese. Ancora due mesetti. Due mesetti, bobbiamo. Ok, va bene. Ciao. Ciao. Vai, ho detto. Vediamo se è stata rimandata. Vediamo se... Rimandata 12 ore, risonare un regolamento generale. 12 ore, 12 ore, febbraio. Minchia. È una maschia, ovviamente. Ha perso... 350 ore, dipende. 360 ore possono andare bene, sì, però... Meglio bene un po' di più. Luigi. Il primo lato per che cosa? Un po' di più. Non lo è dono, non lo volevo voler... Non è rimossa la whitelist. Lo è rimossa la whitelist, lo è rimossa la whitelist, sì. No. Non lo è rimossa la whitelist, io, lui. Questo qua... Vediamo se... Che spiega cosa è. Allora, vediamo se siamo proprio per ground, come discussion while. Regolamento e seba. Il regolamento. Ok. Andrails online. Grazie per il follow, benvenuto. Allora, allora. Ah, ciao. Benvenuto, grazie. Ah, Luigi. Vediamo un attimo di spostarlo. Me lo muto la live per l'audio, perché ho paura che riguarda qualcosa. Ragazzi, il minimo di ore non c'è. In base c'è... Dipende un po' da quanto giochi. Devi avere un po'... Qualche centinaio, devi avercele. Però poi dipende lì. Ciao, Luigi. Ciao, Luigi. Ciao, io ti tolgo sì la whitelist a gennaio. Ti tolgo sì la whitelist a gennaio. Sì, sono proprio io, te l'ho tolta. Cosa hai fatto, Luigi, che non mi ricordo più? Tonto, nove mesi fa. Sono in live, hai un problema per te? Se muti solo la mia voce... Va bene, mutiamo la tua voce. E... Vabbè, cosa hai fatto, Luigi? Quanti anni hai, Luigi? E ora quanti anni hai? Non ne hai ancora, credici, quindi... Eh, allora, ti abbiamo tolta per voce bianca, whitelist, di conseguenza, la voce bianca ancora un po' ce l'hai. Diciamo che sei un po' al limite la voce, eh. Fatti un secondo, eh, chiedo un parere. Ok. Vai, facciamo pure un attimo un po' anche per lo staffer qua. Luigi. Ho capito che Mattu non lo conosci, però purtroppo dobbiamo vedere un po' la voce, come in generale. Comunque mi stai dicendo che lei fu tolta la whitelist per la voce bianca, sono Agosti. Ok. Smuto la live, eh, così si sente anche ciò che ci diciamo tra di noi, ok? Ok. Perché lui aveva chiesto di smutare la sua voce, quindi la smuto ora, che possiamo parlare tra di noi. Cosa ne pensi tu? È al limite proprio, eh. Eh, infatti, io ho detto che ancora un po' bianca ce l'ha. Eh, direi più no che sì. Mi devi rispettare ancora un po', ho detto che il 29 luglio fa 16 anni e direi di tornare verso agosto, settembre. Sì, settembre pure, dopo l'estate. Smuto. Ok, va. Ritorno al studio. Grazie. Prego, prego. Ciao. Luigi? Sì. Allora, senti, e... Allora, io direi che, sembra che tu il 29 luglio fai 16 anni, direi che puoi tornare verso fine l'estate, quindi verso settembre, puoi tornare, vediamo, e rivediamo un po' la... Esatto, quando ricomincia la scuola, torni e rivediamo un po' se sei io con la voce, se la voce va bene. No, naturalmente la voce è ancora un po' troppo bianca. No, non possiamo, mi dispiace. Ok? Torni ancora... Sei proprio sul limite, quindi per questo ti do ancora qualche mesetto, poi penso che settembre, vediamo, vediamo di farlo, ok? Dai, ciao. 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 Può uscire. Allora, non c'è, non c'è, non c'è visto mai un po' la voce bianca. Esatto. La fastidio è una voce bianca, non per la voce, ma sia per la situazione, sia per l'unico... Esatto. Già tanto che se la mettono ragazzi con 15, 16 anni, poi c'è una voce bianca, no, è esatto. Ma 16 anni va già bene, questa è una 15, deve ancora, deve ancora fare 16 anni. Vabbè, dai, su Agosti, ecco, non dire così. Comunque, ragazzi, vi follow Lillerion07, grazie, benvenuto. Allora, vediamo un po'. Io qua, Violet, qua, Andres, io qua, vediamo, è più sposto. Ciao, Violet, cioè, io ho visto che mi hai scritto in live. Sì, sì, no, non volevo scrivere per sfammarmi e farmi venire prima, assolutamente, ho solo visto il nome e ho detto che le passo. Ok, la situazione tua è particolare, perché... Eh, sì, perché... Se perdi i ruoli, se perdi i ruoli, purtroppo devi rifarla a Wildis, spesso. Cioè, racconta che non loghi tu su Impero. Avevo iniziato all'inizio della 5.0, quindi è un po', è un bel po'. Mi ricordo, mi ricordo chi me l'aveva fatta, però. Te l'aveva fatta adesso? Sì, Ace, esatto. Allora... È stato anche rimandato un paio di volte, e... Però non sono più... Eh, per problemi con Discord, visto che... Sai quando, purtroppo, ti rubano il profilo e iniziano a spammare, io la prima cosa che mi è successa, suscito subito da Discord per evitare di farmi direttamente banale, no? Sei logato quattro volte... Cioè, sei logato due volte nel Wipe. Sì, un paio di volte. Due volte nel Wipe, no, mi dispiace, sei logato solo a Marzo, devi rifare la Wipe. Ok, ok. Se hai perso i ruoli, devi rifarla, mi dispiace. No, nessun problema, almeno ho chiarito la situazione, poi ripasserò a farla a pieno tempo. Sì, quindi si deve rifare la Wipe. Va bene, grazie mille, gentilissimo. Posto, ciao. Grazie mille, grazie mille. Vi vediamo. Grazie mille. c'è il nostro nulla Grazie Cambia secondo me di persona a persona Grazie Ok No io non me lo ricordo Sicura Non mi ricordo sinceramente Non mi ricordo più Grazie per il follow Serpe Viola Benvenuto Perché se metto la musica sotto Devo mettere quella no copyright Perché praticamente devo Io le rimetto Non so che le live le rimetto sempre su youtube E su youtube mi metterebbero il copyright Se mettessi quella col copyright Quindi Grazie Sistemi con OBS Poi togliere le volte la musica sotto Eh sì Ma non so come cavolo si fa Cioè è un casino Comunque grazie per il follow A Sazi Con un sacco di y Benvenuto Deve rifare la quell In quanto a S Deve rifare la quell Deve rifare la quell Deve riscrivere sta cosa Ok Perfetto, perfetto. Ok, ok. Suggerisci una domanda, hai riscattato? Sicura? Cos'è il carjack? Ok, perfetto. Siamo aiuti dopo la stream. Va bene, possiamo sentirci. Tu chi sei? Comunque, ragazzi, comunque di essere stato chiaro e coinciso, appena potterò, siccome ora non sono le no-wele, però li farò senza problemi. Eh, lo so, Andres. Andres, però mi dispiace, ma purtroppo se una persona non logga per moltissimo tempo e perde i ruoli o perde lo steam o perde il disco in generale, deve rifarlo. Purtroppo la guardia sia così. Allora... Sì, scrivi, adesso no. Perfetto, vediamo un po' ci sta questo qua. Questo qua cosa ha fatto? Menzioni... Non capisco perché vi sto rilasciando per il regolamento e qua invece l'hanno esso per il background. Nove mesi, vedi? Sono nove mesi di esperienza, quindi va bene. Microsoft on drive, questo, un archip. Ciao, buonasera. Ciao. Ciao, sono in live. È un problema? No, 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 nessun problema, nessun problema. Ah, se vuoi ti spiego il perché sono stato rimandato, perché prima non mi hanno spostato per una cifra di tempo, per tanto tempo. No, non ho capito, ripeti? Prima tipo sono stato in attesa Whiteress per tipo due ore, ma penso che mi avete spostato per il semplice fatto che avete visto che sono stato rimandato per il PG, però mi hanno detto solo di modificare gli anni d'infanzia, per il resto era... Ok. Per il resto era tutto bene. Perché non mi ricordavo della regola dei 5-6 anni d'infanzia. No, no. Ok. Senti, ma senti il ventilatore perché sennò lo sposti? No, non lo sento. Lo senti? No, no, non lo sento. Ma quando parlo io sento il rumore? Sento il rumore? Eh? Quando parlo io sento il rumore, invece? No, però ho capito se la ventola è troppo forte... No, no, da me invece si sente il rumore se parlo? No, 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 per niente. Ok, perfetto. Vabbè, io andiamo avanti, allora. Va bene. Definizione di RDM e VDM? Allora, RDM è quando si è uccido una persona senza motivo valido un RDM. RDM è questa, no? RDM, sì. E VDM è quando si ammazza una persona con la macchina. Aspetta un attimo, mi sta arrivando una chiamata un minuto, eh. Sì. Beh, intanto... Come faccio vedere da quanto tempo ho l'account Steam? Oddio, sa che non mi ricordo. Si poteva fare in un certo modo, non mi ricordo. Riaccomi, riaccomi. Ci stai? Sì, riaccomi, ok. Eee, bene, andiamo avanti. Ah, ok, va bene. Definizione di metagame? Metagame è quando si, diciamo, si hanno delle informazioni fuori dal gioco e poi, diciamo, le riporti in game. Cioè, se hai un'informazione tramite Discord, è una cosa o ci e la porti in c, diciamo. Quindi sono delle, diciamo, delle cose che porti in game. Sapendo le porti in game. Ok. Definizione di power game? Il power game è quando tu utilizzi, diciamo, cioè, quando tu prendi delle... utilizzi le meccaniche di gioco e stanno dentro in game, è cosa che nella vita reale tu non puoi fare, però tramite le meccaniche di gioco del game le puoi fare. Cioè, nel senso, mi spiego meglio, il power game sono, per esempio, sfruttare delle meccaniche di gioco, che però nella vita reale non si possono fare queste tipi di cose. Ok. E definizione di no fear? No fear è non simulare la paura. Quindi, magari, quando... Vabbè, non si cura la paura. Ok. Quali sono le fazioni neutrali d'impero? Le fazioni neutrali sono l'armeria, il concessionario e i medici. Ok. E le safe zone quali sono? Le safe zone sono chiesa, ospedale, vestiti, tatuaggi, parrucchiere, maschere. Ok. Cos'è il carjack? Il carjack è quando tu prendi e rubi la macchina di un altro giocatore. Senza, diciamo, un motivo valido. Ok. Un carkill? Il carkill, invece, è quando prendo una persona e la investo e poi ci sto sopra. Ah. E... Mi fai degli esempi di power game? Cinque esempi di power game? Ok. Allora, un esempio di power game è tenere troppe persone in braccio, fare bagno up, quindi saltare troppe volte, utilizzare dispositivi elettronici sott'acqua, che altro ti posso dire? Ah, sì, vabbè, utilizzare le macchine sopra le montagne, diciamo, quelle che non sono adatte per salire, quindi magari le sportive, poi magari... che posso altro dire? Avere troppe, diciamo, che ne so, trasportare più di tante armi nell'inventario senza un borsone. Ok. Ehm, va bene. Definizione di metagame IC. Allora, il metagame IC è... cioè, vuoi un esempio o un esempio? Vuoi un esempio o un esempio? Ah, beh, la metagame IC consiste nel fatto di riconoscere determinate cose, cioè, sapere determinate informazioni, però, c'è una definizione non te la so fare bene, perché mi viene più da dire un esempio. Cioè, utilizzare delle informazioni per magari scoprire, che ne so... se ti posso fare un esempio, magari mi puoi aiutare. Ehm... Eh? No, ripeti un attimo. Tipo, se ti posso fare gli esempi, così mi aiutano di più, perché se no, non ti riesco a... non so, non la so bene, IC è una definizione. Eh, no, devi farmi delle... sì, fammi degli esempi, ora, sì. Allora, va bene, allora, riconosce... Vabbè, quello più classico e semplice è riconoscere una persona nonostante abbia la maschera. Magari sia dalla voce, sia dal modo in cui si veste, e... e... basta. Quello è quello più semplice, diciamo. Poi ce ne sono altre come, per esempio, magari sapere se un denaro, una moneta... Non lo so, sicura, non si sa quando verrà sciolto l'impero. Non si prevede questa cosa. Che ne so... Vado, questi due. Bene. Ehm... Parliamo del... Le safe zone vi ho già detto, giusto? Le safe zone, sì. E... La zona semi-safe cos'è? Una zona semi-safe sono, diciamo, non si possono fare determinate azioni, eh... senza... Cioè, solo se ci sono però... di motivi... se ci sono dei motivi validi in RP si possono fare, se no, per il resto, no. E magari, per esempio, sono... eh... per esempio i locali, dove... dove, appunto, magari... Qual è la zona semi-safe zone? Esattamente. La zona semi-safe zone, quella per eccellenza, qual è? Quella? Ah, no, sì. Ah, ok. No, dovendo... La zona semi-safe zone più importante del sempre. Polizia. Ok. E che significa semi-safe zone? Semi-safe zone è, diciamo, sono zone dove non si possono fare determinate azioni, ma, eh... diciamo... dove ti trovi, però... magari... avendo dei motivi validi in RP si possono fare. Ok. Diciamo che se non puoi fare un'azione free room dentro al locale, però, avendo un motivo valido, magari, che ne so, devo rapire questa persona che fa parte di questo locale, lo posso fare se ho delle motivazioni validi in RP. Ok, va bene. E la zona centrale come funziona? In quanti si può fare? Poi, come va fatto il vado al regolamento? Allora, diciamo che bisogna... non serve un ticket per assaltare la centrale. E... diciamo... E poi che altro mi hai detto, scusami? La domanda. No, quanti si può... quanti devono essere? E come funziona? Allora, come funziona dalla centrale per attaccarla? Non c'è bisogno di ticket. E... diciamo, per questa centrale, ci devono essere un tot di agenti... Ora, invece, con l'aggiornamento nuovo, c'è bisogno di autorizzazione da parte di un admin. Ah, ok. Eh, questo non lo sapevo. Hai letto la G, anche la sezione aggiornamenti e regolamento server? Eh? L'hai letta la sezione aggiornamenti e regolamento server? Bah... il regolamento quello... dici quello nuovo? Sì, la sezione aggiornamenti e regolamento, la leggi? Beh, non l'ho letta proprio come ho letto il regolamento e studiato, però... alcune cose, sì. Cioè, ho provato a studiare molto il regolamento e... diciamo alcune cose del regolamento nuovo e non le so in modo ferro come regolamento generale, perché comunque il regolamento generale, giocando dentro i server comunque si ha sempre... si impara sempre di più, diciamo. Eh, male, perché devi leggere anche l'attenzione degli aggiornamenti. non so, mi fatti scusa per questo. Eh, vabbè, e andiamo avanti. Se risponi in ospedale, dopo quanto tempo ti puoi ricordare l'azione? Se risponi in ospedale? Sì. Se risponi in ospedale non puoi ricordare. Ok, se ti riesce a un medico? Un'ora. Ok, e... Si possono rapinare i lavoratori no-whitelist? I lavori no-whitelist? No. Un lavoratore no-whitelistato può compiere azioni... Un lavoratore no-whitelistato può compiere azioni legali? Fuori dal servizio. Fuori dal servizio? Sì. Ok, e un direttore di un locale, invece? Sì, anche lui. Fuori... Fuori se non mi sbaglio lento. No, fuori servizio, scusate. Fuori dal servizio può farlo, lui? Sì, sì, sì. Però tanto si viene beccato, poi dopo sono le conseguenze che si prendono l'RP, no? Eh? Se viene beccato sono le conseguenze che si prendono l'RP, no? Sì, sì. Sì, sì. Ok. Sono le conseguenze al locale, insomma, a quello che sta gestendo. I medici possono compiere azioni illegali? I medici fuori servizio possono compiere azioni illegali. Fuori servizio, giusto? Aspetta, perché aspetta, provo un attimo ad alzare il microfono. Adesso mi si sente bene? Sì, meglio. Ok, grazie. Può compiere azioni illegali un medico, quindi no fuori servizio. Il medico fuori servizio può fare azioni illegali. Possono avere armi medici? In servizio no. Può... Sì, può avere il tater. Eh, no, sì, aspetta, stavo dicendo se... La risposta alla domanda è sì, perché lui può avere armi. Il tater. Eh, vabbè, sì, vabbè, stavo... Vabbè. No, lo stavo per dire però, mi ha preceduto, diciamo. Va bene. In azioni illegali, quanti partecipanti ci possono essere in un'azione illegale? Nelle azioni illegali ci possono essere 10 e 14 poliziotti. 10, volevo dire, criminali e 14 poliziotti. In tutte le azioni illegali? In tutte? Le azioni illegali? Se intendi anche azioni freerome, cioè tu intendi azioni illegali o... Azioni illegali in generale. Illegali? Sì. 10 criminali e 14 poliziotti. In tutte. Quindi, aspetta. Tutte le azioni illegali del server e anche dei negozianti, del Pacifico, ovunque, è il stesso numero. Beh, sì. No? Cioè, no, aspetta, dipende da... No, no, assolutamente no. Nelle azioni freerome è un 14 contro 15, nelle altre cambia a seconda dove sei. Sì, sì, eh, no... Insieme alla risposta pare che è in realtà sbagliata l'edata, eh. Scusami. Si può lutare... Si può lutare in criminali in azione? Scusami? Si può lutare in azione? In azione si può lutare? No, non si può lutare in azione. A fine azione si lutano. Ok. Un poliziotto può essere lutato? Il poliziotto si può essere lutato. Sì o no? Sì, 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 sì. Totalmente? No. Bende colpi. No, tu ti la risposta a... Bende colpi, assolutamente. Ok, ok, ok. Bende colpi. No, solamente le bende. Scusami, solamente i medikit. E dove si può sparare a vista? Nelle zone rosse. E quali sono le zone rosse? Dove si raccoglie la droga e anche dove si processa. E dove si vende anche? Dove si processa e dove si raccoglie. E dove si vende invece? Anche? No. No, perché? Eh, perché dove si vende magari... Perché no dove si vende, scusami? Eh? Perché no dove si vende? Beh, cioè... Vabbè, in realtà penso che sì, anche dove si vende. No. No, dove si vende no. Ah, no, tutto bene. È bene, però no. No, in realtà... Eh sì, ero molto rubato. Devi stare attento alle risposte che dai, perché se l'hai sbagliato, poi sono sbagliato, non ne puoi modificare la correzione, dicendo, eh sì, è notato, è giusto, no. Perché anche avete una risposta, ha detto, no, no, ha detto sì, anche nelle punti di vendita. Invece no, 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 devi essere convinta, la risposta che dai. Perché io faccio apposta a... Farmi il drabbuchetto. Farmi esatto, bene. Ok, ok. Perché non esiste un punto di vendita. Qui no. Va bene. Non esiste. Perché la vendita non esiste su Impero. La droga si vende in RP. Ok. Adesso ti do libera scelta di spiegarmi un argomento. Un argomento. Ok, qualsiasi. Che è proprio tra tutti quanti uno... Esatto. Allora, vabbè, se posso dire le rapine, quelle che ho fatto, oppure se posso dire, non so. Cioè, se a mio piacimento... Tu hai detto, scegli un argomento, un regolamento, spiegarmi a Poce e a che scegli tu. Va bene, allora posso dire, non so, delle varie rapine. Quelle che conosco. Vado? Certo, tu hai detto, vai. Ok, ok, scusami. Tu hai detto, spiegami quello che vuoi del regolamento, non è che devi chiedermi cosa. Ok, ok. Tu hai detto, ho lasciato libera scelta, se no te va a scelere domande, eh. Non c'è problema. Ok, ok. Allora, le rapine, esistono vari tipi di rapine e comportano anche un cambiamento di numero massimo dei criminali e dei genti di polizia e a seconda cambia anche il numero che si può dire. di ostaggi e le armi che si possono utilizzare insieme ai caschi. partendo da quelli in cui diciamo non si possono utilizzare abbiamo il negozietto dove ci sono due criminali e ci sono anche due agenti di polizia senza un ostaggio e senza caschi e utilizzando armi come pistole e da parte di tutte e due diciamo sia criminali sia d'agenti. Poi abbiamo diciamo un'altra rapina che si ha è il Gabriella che è una rapina che rispetto al negozietto ha un valore aggiunto di 1 per qualsiasi tipo di criminale e di agente, quindi si hanno tre criminali e tre agenti e si possono utilizzare anche qua solo pistole da parte di tutte e due quindi sia criminali sia agenti e anche in questa rapina è una rapina dove non si può utilizzare e dove non si può diciamo avere ostaggi. poi abbiamo diciamo una rapina che viene chiamata Ponson dove diciamo che qua è lo stesso numero di Gabriella però si ha un membro in più dell'agente di polizia e si utilizzano anche qua le armi diciamo come pistole e diciamo che non si possono neanche qua avere ostaggi. Questi direttivi di rapine sono tre rapine dove non si possono avere ostaggi e poi si hanno anche delle rapine molto più pesanti per esempio le due più pesanti che sono la Pacific e la Blaine oltretutto mi sono scordato di dire che ci sta anche la fliga che la fliga è una rapina che quasi sia cioè è una rapina dove qua diciamo che si possono utilizzare le armi più delle pistole quindi armi magari cioè per esempio SMG e al contrario di tutte le altre qua si possono utilizzare i caschi come non si era visto prima come si era visto prima nelle altre rapine e qua si ha sempre cioè qua possiamo dire che comunque il numero rimane rimane diciamo non invariato se non mi sbaglio erano quattro criminali e quattro poliziotti e poi ci sono le ultime due rapine che sono la Blaine e la Pacific che sono le più grandi e diciamo che allora nella Blaine si possono si possono avere otto che dire un'altra domenica l'ho fatta anzi perché mi sa che non faccio un'altra qua si possono avere di rapinatori cinque rapinatori e diciamo che la polizia sono sei e qua adesso va bene così va bene così al contrario come pensi di essere andato allora ti devo dire inizialmente sono partito benino cioè alcune cose di esempio lo sapevo di dire devo dirmi un po' che mi sono ho sbagliato nelle nelle ultime diciamo quasi nelle penultime jblack devi riscattare ai punti la domanda se vuoi chiedo qualcosa diciamo comunque domi che stava bene e anche borghesino gliela faccio questa sono un po' titubante su una sulla droga per quanto riguardava la allora adesso c'è qualche altra domanda poi ritorniamo a questo argomento quali sono diciamo l'assalto al convoglio in generale i numeri se si può fare dove si può fare allora l'assalto al convoglio sono gli assalti magari a sono quegli assalti che si fanno e dove ci possono in che rapine si possono fare gli assalti con voglio la blin e la pacific e invece in azione frum si può fare l'assalto sì sì e in quanti criminali possono partecipare un assalto al convoglio 7 e quanti poliziotti invece 14 e poi dove altro si può fare qui l'assalto al convoglio pacific blain salve frum e quindi che sono e no solo la coca e la meta e va bene e qual è la differenza tra vdm e car kill ah che vdm metto la persona sotto con la macchina e magari me ne vado e non si può e invece con il car kill che proprio ci rimango sopra con la macchina col vdm me ne vado invece car kill mentre ci rimango sopra senza poterla farla andare via ok va bene torniamo al discorso di prima come pensi di essere andato allora come ho ripetuto già prima sul fatto della droga di venderla sono stato molto dirubbante sulla risposta corrisposto bene poi ho detto si esatto tu eri molto molto indeciso sulle risposte a dare sta cosa non va bene perché hai fatto non stati errori per colpa di questo problema lo so perché sei sicuro non concludi le risposte le cambi non va bene questa cosa perché poi ci rimetti tu lo so e appunto mi sono soffermato anche sul fatto che ho sbagliato sono stato ridubbante e diciamo che piuttosto quando io vado a dire una cosa voglio specificarla sul tutto per esempio sulla cosa del team come andava secondo voi ragazzi volevo finire però diciamo la la sapevo la risposta diciamo allora che sull'ultima cosa penso di essere andato comunque insomma ho detto delle cose giuste anche inizialmente è stato giusto gassare il follo lo svantaggio lo svantaggito insomma cioè è una cosa che buonasera posso 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 cambiare quindi posso diciamo nel tempo se ti rimandassi quanto tempo ti rimandassi? ti rimanderesti tu? poco tempo insomma c'è in realtà non è proprio per andare a dire che è sbagliata la scelta forse è il fatto che comunque avendo un'insicurezza non so quanto tempo mi potresti rimandare insomma non ti saprei dire però per il resto perché ti dico tu hai fatto un po' di errori devo dire un po' tanti per farti passare ok? non si può fare un'altra quante volte hai fatto la whitelist tu? io questa whitelist? ok quante volte l'hai effettata? è un bel po' di volta insomma è da tanto tempo che comunque ci provo e ci spero hai fatto la whitelist e provato a farla 27 di febbraio marzo poi marzo poi giugno e luglio esattamente poi ho trovato inizialmente un server ma non mi sono trovato tanto diciamo bene insomma è le tante volte che ci ho provato ho svantaggito ho sempre più pensato non so voglio pronunciare il tuo nome comunque si mi spiace però purtroppo devi passarla ci ho sempre provato non so se si potrebbe fare un'altra domanda quanto ne hai tu? io 17 17 anni mi gioco di rp da quanto? gioco di rp da settembre quindi saranno 9 mesi nel frattempo dove hai giocato in questi mesi che stai sentendo la whitelist? ok ho giocato su vanquest ok se voglio mudare vabbè non so se poi ho giocato su vanquest sono ho giocato per due mesi tre ma mi sono un po' stufato hai visto cercando di far la whitelist qui ora esatto perché su vanquest oramai è diventato un tutto spara spara io non mi piace va bene non ti trovi bene vabbè guarda hai fatto un po' tanti errori diciamo io sono un po' pignolo devo dire la verità hai fatto un po' di errori ma non erano abbastanza gravi errori di insicurezza perché sai molto di tuo bante sulle risposte che dai allora la whitelist la passi però devi stare molto attento a quello che fai in rp perché sei molto insicuro su alcune cose le sai ma sei insicuro quindi ti faccio la whitelist la passi però devi stare molto attento perché prima di entrare a giocare vi raggetti bene il regolamento grazie mille guarda era tanto tempo che ci provavo imparerò e studierò tutto quello che ho sbagliato non ci stanno limiti di tentativi migliorerò questo fatto diciamo mi raccomando va benissimo grazie mille per per l'opportunità buona serata allora ciao grazie anche a te ciao ciao bene passato ciao dopo buonasera buonasera caro buonasera caro la seconda parte non è fatta compiere in modo la whitelist non è fatta questo era già già giocato è stata tolta la whitelist no questo l'ha già fatto la whitelist questo br quindi c'era c'era si Mi sa che ha perso lo steam Prova a spostarlo Stacco un attimo Stacco la live Vabbè ragazzi Vi ringrazio per essere con me Vi ringrazio tanto per essere con me Ragazzi Vi saluto Oggi abbiamo fatto un po' di guai Ci siamo divertiti Abbiamo fatto qualcosina Per cambiare Insomma weekend cerco di portare un po' le guai A telesteen live appunto perché c'ho tempo Non lavoro Si può fare qualcosa Insomma E io adesso vi lascio Ragazzi da mezzo Che Porta la polizia di impero Vi lascio da mezzogiorno Quanti ne fate passare? Oggi ne fate passare due Borghesino Ragazzi Io vi ringrazio tanto per essere con me Comunque vi lascio da mezzogiorno Vi ricordo di fare Punto a schermativo Comandi Per vedere i comandi disponibili Punto a schermativo Yt Ragazzi Fate tutti Seguitemi tutti su youtube Per vedere le repliche Di tutte le white list Di tutte le live che faccio Qui su twitch Seguitemi su youtube Così vedete tutte le repliche pure lì Che vengono ricaricate Vengono conteggiate i rimandi Per le cose Sì certo Però comunque Non c'è un tentativo Non ci sono limiti Di rimandi Cioè può essere rimandato anche 80 volte La white list la potrai sempre fare C'è solo il tempo che perdi Appunto nel farla Che perdi Qui ragazzi Iscrivetevi su youtube Facendo punto a schermativo Yt E facendo anche Punto a schermativo Comandi Per i dati comandi disponibili Vi ringrazio tanto per essere con me Vi lascio da mezzogiorno E vi saluto Ciao Ciao